Nuove scuole di specializzazione dell'Università di Salerno, rettore di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di risultato straordinario per il nostro Ateneo. Il Ministero dell'Università e della Salute, di concetto il Ministero della Salute, hanno riconosciuto la crescita del nostro Ateneo, perché abbiamo raddoppiato le scuole di specializzazione in autonomia, l'anno scorso erano tre, oggi sono sei, e abbiamo aumentato il numero del 40% delle borse in aggregazione, l'anno scorso complessivamente erano 11, oggi siamo a 15. Quando abbiamo cominciato il rettorato non avevamo scuole di specializzazione in autonomia, oggi ne abbiamo complessivamente 15, tra quelle che gestiamo da sole e quelle in aggregazione con la Sun e la Federico II. È un riconoscimento che ci deriva dai meriti che ci siamo guadagnati sul campo, se è vero che in questi anni la facoltà di medicina di Salerno è risultata la prima in Italia per durata media del corso di studi e prima in Italia per grado di occupazione gli studenti avranno dalla laurea e i nostri laureati si sono classificati al quarto anno nella competizione nazionale nell'accesso alle scuole di specializzazione di area medica. Quindi io penso che i compiti a casa li abbiamo fatti e li abbiamo fatti bene e il Ministero ce l'ha riconosciuto. Ovviamente questo percorso deve andare avanti, deve andare avanti perché lo merita la nostra università, lo merita il nostro territorio, perché giovani che entrano nelle scuole di specializzazione significa tutto cervelli trattenuti qui sul nostro territorio, ma significa possibilità concrete per i nostri laureati, stimolo per quelli che si devono iscrivere o che stanno facendo il loro percorso di studi, significa presenza di questi giovani competenti ed entusiasti all'interno della nostra azienda ospedaliera universitaria, significa una qualità migliore dell'assistenza anche ai nostri cittadini e al territorio tutto. Quindi è un successo del nostro Ateneo, ma che è un successo del nostro territorio. Questo successo non è solo della nostra università, perché avere un numero maggiore di scuole, maggiore tipologie di scuole di specializzazione, un maggior numero di borse, significa offrire ai nostri laureati una concreta possibilità di poter rimanere sul nostro territorio e nelle nostre strutture ospedaliere, ma significa anche una migliore qualità dell'assistenza, perché la presenza di tanti giovani competenti ed entusiasti è sicuramente un elemento vivificante nell'ospedale. Quindi è un successo della nostra università, ma del nostro territorio. Uno stimola i nostri giovani, sia quelli che vogliono intraprendere il percorso in medicina, sapendo che troveranno le scuole specializzazioni anche a Salerno, e sia di quelli che sono in corso e che sicuramente guardano a queste notizie con particolare attenzione. Ma i nostri sforzi devono continuare, perché proprio in queste ore il governo regionale sta per mettere su piatto, in aggiunta alle borse ministeriali, che sono state già definite, anche delle borse aggiuntive regionali. La richiesta, ma siamo sicuri che questa richiesta non cadrà nel vuoto, ma sarà accolta, è qualche modo di mettere delle borse aggiuntive che tengano conto della dimensione del nostro Ateneo, che anche in termini di numero dei laureati offre oggi il 20% dei laureati in medicina dell'intera regione. E quindi mettere borse regionali sia, diciamo, sulle scuole già attive, ma sia anche su altre, in maniera tale da poter ampliare ulteriormente, seppur in aggregazione con gli altri Atenei, la Sunne e la Federico II, le scuole di specializzazione qui a Salerno. Grazie.